Ciao a tutti amici di SpampiAuto e benvenuti in questo nuovo video Ah, porca miseria Come state? Spero tutto benissimo, io sono qua con il dottor Ronny, Ronny Valori Siamo, con il dottor magari una volta, no mai Vi siete iscritti al canale perché siamo quasi in 200.000 Ronny, siamo quasi in 200.000 E dai, schiacciate questo tastino, la campanella Non dico stranieri, un secondo Ma poi ve lo diciamo sempre, insomma Siamo qua con una bellissima Audi R8 Ci è stata prestata da Auto Giannini Che è un'auto rolegio di lusso di Lentate sul Seveso Che è qui della nostra zona Questa è una di quelle macchine che mi piacciono Stiamo parlando di una macchina interessante Questa è un Audi R8 Spyder Che Audi adesso fa diverse versioni appunto di questa Che è la sua supercar In particolar modo fa, oltre alla versione Spyder e la versione Coupé Per ogni tipologia fa appunto tre diverse versioni Ovvero la RVD, che è solo trazione posteriore La 4, che è come la nostra E poi c'è la 4 Performance Che è un modello un po' più in alto Stiamo parlando di un 5200 FSI V10 da 570 cavalli La macchina spinge tanto e sicuramente il suono vi ricorderà quello di una Huracan Di una Huracan visto che la macchina è ovviamente aspirata È una macchina che cammina forte Stiamo parlando di 570 cavalli ve l'ho già detto Per 570 Nm di coppia La macchina pesa un bel po' Perché pesa 1750 kg Quanto va forte lo vedremo dopo Una chicca in più del modello che abbiamo noi È che ha anche l'impianto frenante Carbo-ceramico E questa cosa ci darà un bel valore aggiunto Quando faremo la bellissima strada di montagna Che andremo a fare E chi guida? Beh, guida te, amici Io ti guardo Sdrai anche un po' il sedile e mi metto a dormire Ti accendo lo schermino Grazie Ma io lo so che voi di Spampinauto Volete solo sentire il rumore Quindi, per piacere Ronny Dobby è un elfo libero Porca miseria Non me l'aspettavo Vediamo come va Mamma mia Impressioni generali Allora, per adesso sta guidando Ronny Io non ho ancora guidato questa macchina Mi piace moltissimo come è rifinita dentro E qua, spezzo una lancia Porsche è un'altra cosa Totalmente La macchina ovviamente è un segmento super sportivo Quindi non è una macchina da tutti i giorni Ovviamente la gente si gira Qualunque, non solo per il rumore Ma anche perché è bella, molto bella Stiamo per andare a fare una strada molto carina Quindi avremo modo di testarla Avrò modo di testarla Perché Ronny A dire il vero Ci dà giù Ronny È come se fossi su un treno Senza conoscere come si muove la macchina Siamo in modalità performance E qua l'asfalto è molto sconnesso E la macchina non è affatto rigida Come mi ricordavo una huracan Mamma mia com'è giù Bella Si chiude un po' Oh 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 Come stringe Test per vedere se si girano di fianco Fammi un simil lunch Sto facciadato nel coglione Che brutte persone Mettiamo Beh bene sono bene Si è carellata la C3 Si è carellata la C3 Non la lascia scappare Ronny No non ci voglio chiedere Guardalo guardalo Larghissima Che traiettore Ratching Ripartita Ripartita RONNY Che strisciante che ti ha lasciato per terra Ti ha lasciato tanta gomma La C3 si è carellata Rolla da Ford Scaffo Quasi invade la corsia opposta È lui È la C3 È in terza piena Ronny punta sul passo Striscia tratteggiata Tutto nella norma Bravo Ronny È così carellata Sì 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 è vero È tutta altra corsia Che cazzo succede questa macchina Ti è divertito abbastanza? No Sarà mica il mio turno? Eh adesso Non me la valla più Ronny Oh queste sono le curve belle Io ti ho portato Tocca a me Indovina come mettiamo la macchina Così sì che si può andare a fare l'aperitimo in Moscova Tanto che mi preparo a metto la cintura Ringraziamo lo sponsor del video di oggi In realtà di tutti i video Che è My Protein Cattiveria Ronny non si fida tanto di me Devo cercare di dargli un po' di fiducia Eh però come la fai scoppiare Suona per bene Come la Huracan Ah me la son beccata io la strada bella Ronny Bella cavolo Il freno è modulabilissimo Anche perché me l'hai scaldato Lì torna malato Mamma mia quanto è bello Perché dai cazzo in centro Cane maledetto Cazzo amiche così imparo Ronny Cazzo amiche mi piace Valentino ha risposto One Ciao Valle Abbiamo finito Arrivati Con 65 km d'autonomia Non ci arriviamo al benzinaio Che ci va Valle Devo dire Questo video è stato diverso dagli altri Per te è la normalità Figo mi è piaciuta La macchina mi è piaciuta Facile Non è impegnativa come la Huracan È molto più comoda Ovviamente costa meno Costa meno mantenerla Non posso ancora permettermela Per cui sogna Michael Però mi è piaciuta tanto Quindi devo ringraziare Giannini Che ce l'ha prestata Grazie mille Come al solito Trovate in descrizione tutte le informazioni Ronny che ci ha dato una mano C'è anche il suo insta in descrizione Iscrivetevi al canale Che siamo 200.000 Ma chi venire gala Sti video con l'R8 a cannone C'è scoppietta Volevo dire Spamp in auto Una garanzia Però basta Ci vediamo Nel prossimo video Spamp in auto